Allora name mc per prendere la skin No te la do io te la do io Vabbè l'ho scritto nadre not the bad nadre Eccolo perfetto Ma cioè sono su name mc Allora eh sì perché sei utente premium quindi ti aggiunge Tutti gli utenti sono Vai scarichiamo Andiamo su nuova skin La skin editor più semplice di tutte Sì anche tu Ok allora questa era la skin vecchia che avevo fatto a un ragazzo Allora signorandre La sua skin Allora Via corpo Via tutto Te la facciamo qua Allora vuoi con la linguetta a destra o a sinistra Eh io non so dove ce l'ho Te la faccio a sinistra Poi prendiamo il nero facciamo così Oddio così è stupido No ho sbagliato Posso fare un'introduzione che non c'entra nulla Sì Allora Ho aperto la youtube Ok ho aperto youtube Mi viene un video che ho scritto Tre esperimenti con i buchi Bro Allora ci serve anche il bianco Così Una e due Così 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 Fatta Salva Salva Download Tela Carrico su discord Dove l'ho lasciata ma Char.png Eccola qua Tieni Vai a inserirtela E perfetto Non ci serve più niente Signori vi ricordo Il server discord Sono tantissime stanze E avete tutte le notifiche di tutte le live E tutti i video Sì bello questo Andate a guardarvi questo perché Non ha senso È un salto con la bitch di m***a Perché non ha senso Però sì Facevi con l'oppressor del salto Era più bello vero? Eh volavi